GENERAZIONE DI FENOMENI 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 DELLA DELLE DONNE, INTENDO, CHE USANO IL SILICONE PER I MOVIMENTI TETTONICI? Ehm, io non sono del loro stesso paese, cioè penso che una seba accettare così come è, quindi... Quindi quando è...? No, non riesco a comprenderla. Tu frequenti questa università? Sì, sì, architettura. Immaginare, tu cosa pensi delle tue colleghe, immagini, parlo delle donne, che usano il silicone per i movimenti tetonici? Ehm, penso che se lo fanno per star meglio è una buona cosa, non per essere... è solo per apparire, se lo fanno per star bene loro, nella propria interiorità è una buona cosa, che lo facciano pure. Cosa pensate voi, ma realmente, delle ragazze che usano il silicone per i movimenti tetonici? Hai risponito? No, no, ma che ne so? Eh? Che ne pensi? Il silicone per i movimenti tetonici? Che ora ti spavano anche delle placche, ma... Cosa hai detto? La tetonica delle placche. Che cos'è? Eh, il movimento tetonici, ma... Dì, che cos'è il movimento tetonici? Che ne so? Il spostamento della costa terrestre. Bravo! Che gliene frega le donne del silicone per lo spo... I terremoti! I terremoti! Tu fai architettura. No, no. Ah vedi, uno che lo sa non fa architettura. Ciao! 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 GENERAZIONE DI FENOMENI! GENERAZIONE DI FENOMENI! SIAO NOI! GENERAZIONE DI FENOMENI! 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 GENER Channel